Piedi per Battistuta Io ho finito l'opera Ma è stata una grande E bella Fiorentina Mia moglie soprattutto Perché siamo arrivati qua soli Siamo andati via con tre bambini Uno di questi è lui Lucas Siamo arrivati Non si parlava italiano Non avevamo casa E abbiamo avuto Quando arrivo Stefano, grazie Là ci sono quelli che ti hanno insegnato l'italiano Stefano e Lisetta Grazie Grazie Gravi, bravissimi Perché Gabriel andò a abitare Nella casa di Baggio In via Casa Morata Quartiere del Poggetto E' stato troppo importante per me Poi la prima volta che ti vedo commosso Dai Gabriel Cazzo 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 Cazzo